guardare per credere lampione a intermittenza visto che siamo vicini al periodo natalizio qui a bascapè hanno pensato bene di fare il primo lampioni a intermittenza guardate che bello meglio delle luminari ciao sto riprendendo il lampione è perché lampeggia come rilevatori di luminosità lascia rimasto acceso c'è il rilevatore di